Oggi a passato e presente parliamo della Stasi, l'onnipresente polizia politica della Germania orientale, parleremo di un suo agente molto importante, Markus Wolf, parleremo di Erich Milke, l'uomo che guidò la Stasi dal 1957 al 1989 e parleremo anche di un film famosissimo Das Lebender Anderen di Florian Henkel che vinse un Oscar nel 2006, La vita degli altri, in Italia e che raccontò al mondo intero quali furono i metodi della Stasi. Della Stasi e della polizia politica nella Germania orientale parliamo oggi con il professore Ernesto Galli della Loggia e con i nostri tre giovani storici, Saverio Albertano, Francesca Fanelli e Michele Pagliero. Professore io spesso prima di fare queste conversazioni telefono ad amici giornalisti o storici e faccio una domanda per capire cosa sanno di un argomento o cosa li incuriosisce e oggi prima di venire a parlarne con lei ho chiesto a questi miei interlocutori ma voi sapete qualcosa della polizia politica degli altri paesi comunisti, bulgara, cecoslovacca, rumena e qualcosa si hanno impappocchiato però non è che ne sapessero molto. Quando sono arrivato alla Stasi sentivo un respiro, ah finalmente la Stasi si che è importante e parlavano dei libri di Le Carrée, dei film, ma che ha avuto la Stasi così particolare è diverso da tutte le altre polizie politiche dei paesi comunisti? Ma con una battuta mi verrebbe da rispondere il fatto che era tedesca e quindi diciamo così ottima battuta. Aveva innanzitutto una capacità tecnica nel suo campo, che poi erano molti campi, particolarmente eccellente. Poi se la vedeva in qualche modo con la Germania occidentale, con la sua controparte ed è riuscita a piazzare, diciamo così, forse il colpo spionistico maggiore della storia che adesso vedremo, quindi non anticipiamo e quindi diciamo che questa l'ha portata naturalmente alla ribalta. Poi c'era il fatto che era, diciamo così, l'organizzazione spionistica e poliziesca che controllava Berlino. Berlino è stato il cuore della guerra fredda e quindi i film, quelli che lei ricordava, che le hanno dato, diciamo così, una celebrità, anche poi successivamente dopo la fine della guerra fredda, la caduta nel muro di Berlino. Mi ha anticipato la domanda che volevo fare. Fu percepito in tempo reale o è una percezione successiva quella dell'importanza particolare della stasi? No, credo che sia stata un'importanza già nel corso degli avvenimenti, soprattutto perché dopo il famoso colpo spionistico di cui parleremo, il caso Guillaume, la stampa tedesca occidentale ha acceso un riflettore molto forte, poi appunto tutti i dissidenti della Germania Est erano in facili rapporti, insomma più o meno facili, con la stampa occidentale attraverso la stampa tedesca occidentale, quindi era molto più vicina di tutte le altre. Ma allora adesso procediamo per gradi e apriamo il primo capitolo della nostra storia, 1949. La Germania si divide in due, cioè nascono, era già divisa in due, ma nascono uno Stato comunista e uno Stato, la Germania occidentale, liberal borghese. Ottobre 1949, la Germania si divide. A Berlino viene proclamata la nascita della DDR, controllata dal partito di unità socialista. Febbraio 1950. Il governo comunista tedesco decide di trasformare il direttorato per la salvaguardia dell'economia popolare nel Ministero per la sicurezza dello Stato. È la nascita della Stasi. A comandare questo nuovo apparato al servizio del regime c'è Wilhelm Zeiss. Inizialmente la Stasi è una sorta di distaccamento dei servizi di sicurezza sovietici. 1953. La Stasi deve fronteggiare la prima emergenza. Una massiccia rivolta popolare contro il regime comunista mette in crisi la DDR. Il leader del partito, Walter Ulbricht, è costretto a chiedere aiuto ai sovietici che intervengono militarmente con i carri armati e 20.000 soldati. La rivolta viene sedata, ma da quel momento inizia una fase di potenziamento della Stasi. viene seguita a una logica ben precisa, nata da un'amara e lucida constatazione. La DDR non ha consenso popolare e senza controllo e repressione preventiva non può sopravvivere. Per fare questo serve un nuovo ministro, un nuovo capo della Stasi, fedele al partito e ambizioso. La scelta accade su Eric Milke. Milke riesce ad ottenere fondi straordinari e a potenziare l'apparato della Stasi. Con lui il controllo sulle persone sarà particolarmente tentacolare e preciso. Contro gli antagonisti del regime si ricorre spesso al carcere di Hohenschonhausen. Lì avvengono gli spietati interrogatori, le prigionie, le torture. Nel giro di pochi anni la Stasi diventa sempre più potente. Ed ecco il primo dei nostri grandi personaggi, Milke. Michele Pagliero. Beh, Milke è un comunista della prima ora. Già nella Germania di Weimar era stato autore di un attentato, due poliziotti nel 31, dopo il quale era riparato in Russia e aveva lavorato con i sovietici nell'ambito dello spionaggio, anche nella guerra civile spagnola. Da lì è partita una collaborazione che è durata per tutta la sua carriera. La sua collaborazione con i sovietici e la stima di cui era circondato è forse uno dei motivi per cui è rimasto in carica per così tanto tempo. Sì, a me mi ha sempre stupito il fatto perché Stalin era diffidente nei confronti degli ex comunisti della prima ora, come diceva Pagliero, gente che era stata comunista negli anni 20, nella Repubblica di Weimar. Nella guerra civile spagnola, cosa che suscitava in Stalin... Ma lui era un vero e proprio killer, però. Non era una personalità politica. Nel dopoguerra Stalin si liberò di tutti coloro che erano stati in Spagna dei quadri dei partiti comunisti dell'Europa orientale, ma se erano dei quadri, Milken più che un quadro lo diventerà poi nella Germania Est, ma originariamente lui è un vero e proprio... Un agente, un agente... Sì, un uomo di mano, uno che serve appunto a far fuori le persone. Lui era stato in Spagna, ha avuto le funzioni praticamente di essere un esecutore di socialisti e di anarchici. Comunque, quando nasce, da quello che abbiamo visto, quando nasce la Stasi, nasce più o meno come nascevano le polizie politiche degli altri paesi. L'evoluzione della situazione in Germania era già chiara nel 1950, l'anno della nascita della Stasi? Cioè, quello che sarebbe accaduto dopo? Quello che accaduto dopo nessuno poteva sapere, però è chiarissimo che c'è una divisione della Germania in due campi che ormai sono incomunicabili tra di loro. Bisogna ricordare che immediatamente prima della costituzione della Germania orientale nel 1950, Stalin cerca il colpo di mano con il blocco di Berlino, cioè tenta di espellere gli occidentali da un punto focale e non ci riesce con il ponte aereo organizzato dagli americani. Gli occidentali organizzano un ponte aereo e riforniscono Berlino. E riforniscono per un anno e più Berlino di tutto l'occorrente perché non potevano più passare attraverso la Germania orientale, il territorio della Germania orientale. Che ricordiamo nei nostri spettatori, Berlino era dentro la zona... Un'anclave geografica. Un'anclave geografica dentro la Germania orientale. Per cui quando i sovietici nel 1948 interrompono l'autostrada che... Decidono di chiuderla, interrompere l'autostrada come raccontava adesso il professor Galileo a loggia, Berlino si trova soffocata e gli occidentali organizzano un ponte aereo che tutti i giorni porta a vivere in medicinale. Gli americani. E allora adesso le faccio vedere un filmato. La stasi forma i suoi uomini attraverso particolari, precise tecniche di addestramento. Agli agenti della stasi vengono insegnate tecniche di intercettazione telefonica, di apertura della corrispondenza, di perquisizione segreta di domicilio, di pedinamento, ma anche di psicologia operativa. Lo storico e saggista Gianluca Falanga, nel suo libro Il Ministero della Paranoia, ha descritto alcune delle tecniche spiegate ai futuri membri dell'agenzia. Agli studenti vengono inoltre trasmessi fondamenti di base della psicologia umana. Gli obiettivi ultimi della disciplina sono diabolicamente pragmatici. Distruggere un sentimento di fiducia, un amore, sollecitare tensioni latenti all'interno di un gruppo al fine di farlo scoppiare, produrre illusioni, costringere qualcuno a confessare qualcosa, snervare un poco alla volta, giorno dopo giorno e per anni una persona, fino a spingerla a dubitare di se stessa e delle sue idee, avvelenare i rapporti interpersonali, seminando diffidenza, provocare paure e crisi di panico o addirittura una depressione. Senza che le vittime ne abbiano consapevolezza, i dottori della psicologia operativa agiscono come perfidi burattinai all'attacco dell'animo umano. Saverio Bertano? Mi ha sempre affascinato la perizia, l'attenzione con la quale vengono preparati gli agenti della Stasi, quella che fu intitolata la scuola superiore di giurisprudenza, dove a seconda dei gruppi che si sarebbe andati a spiare, gli agenti avrebbero ottenuto una educazione diversa, quindi più intellettuale per quelli che si sarebbero infiltrati nei circoli intellettuali, più artistica, più professionale, quindi estremamente attenta, a volte chiaramente a dare rudimenti di leninismo-marxismo. Più intellettuale per gli intellettuali. Capirono prima delle altre polizie politiche l'importanza di agganciare gli intellettuali. Si racconta che erano infiltratissimi nei gruppi intellettuali, fra i dissidenti, come lei ricordava prima, ma anche con gli intellettuali della Germania occidentale. Come lei sa, l'attenzione, diciamo così, del movimento comunista per gli intellettuali è una cosa che risale agli anni 30, in particolare a una geniale figura di organizzatore si chiama Billy Münzenberg, che fu quello che organizzò cose tipo il Soccorso Rosso, le feste dell'umanità, cioè era un geniale inventore di luoghi di incontro fra le organizzazioni comuniste e degli intellettuali genericamente democratici, in funzione di attrarli. Quindi era una vecchia storia. Ma che serviva? Scusi, io me lo sono sempre domandato. Perché questa particolare attenzione agli intellettuali? Eh, ma perché lei cosa siamo? Gli intellettuali sono giornalisti. Parlo per sei professore. Va bene, d'accordo. Lei invece, lo so, che fa altre attività, si dedica ad altre attività. Gli intellettuali producono idee che poi circolano nella società, quindi diffondono valori. E ovviamente se si tratta di valori, cioè in qualche modo favorevoli a una certa parte, hanno molto valore, insomma. E allora le faccio una domanda opposta. Perché gli avversari... Era come avere delle televisioni. Sì, ma gli avversari non lo capivano. Come? Gli avversari non lo capivano, gli anticomunisti. Coloro che si battevano contro l'Unione Sovietica. Perché non facevano la stessa cosa? Beh, perché il comunismo aveva un grande vantaggio. Disponeva di valori buoni. È difficile propagandare l'antisemitismo così come un valore normale. Invece la libertà, l'uguaglianza, la giustizia sociale sono valori che di per sé, qualsiasi persona decente è pronto a sostenere, ad abbracciare. I valori della controparte erano valori molto più... Beh, è una delle controparte, diciamo, quella della Germania nazista. Ma anche... Però esistevano pure gli Stati Uniti d'America. Ma gli Stati Uniti d'America, appunto, avevano quali ideali avevano? Le democrazie, la libertà, l'uguaglianza, la giustizia. Il comunismo si presentava agli intellettuali come quel movimento che aveva semplicemente, diciamo così, portato più avanti, che aveva mostrato maggiore, diciamo così, convinzione nel portare avanti gli stessi valori delle democrazie. In più aggiungiamo che mentre era facile agganciare degli intellettuali che vivevano nel mondo libero, agganciare degli intellettuali che vivevano nell'universo sovietico... Era un pochino più difficile. ...mi si metteva, tra l'altro, anche a rischio. Francesca Fanelli. Il filmato che abbiamo appena visto ci ha descritto in maniera puntuale la tecnica di decomposizione dell'anima, che era una delle tante tecniche di spionaggio e di controllo della popolazione civile attuata dalla Stasi. Per comprendere al meglio questo fenomeno possiamo ricorrere alla narrazione cinematografica dell'importante film Le vite degli altri, che ha vinto il premio Oscar nel 2006 come migliore film straniero. Forse anche le persone che io ho ascoltato prima e che conoscono la Stasi è perché hanno tutti visto questo clamoroso film citato da Francesca Fanelli, ma c'è qualcosa in più in questa cosa della scomposizione dell'anima. C'è qualcosa di più specialistico? C'era da un punto di vista lo specialismo psicologico, la decisione di ricorrere a tecniche molto sofisticate di tipo psicologico, psicoanalitico, quindi di muoversi su una frontiera che tra l'altro ideologicamente non era molto in linea con quella che era l'ideologia ufficiale del partito. La psicoanalisi è stata sempre una cosa abbastanza osteggiata. C'era il fatto che, lei si ricorda la famosa battuta che disse Brecht dopo la rivolta del 1953? Abbiamo scoperto che il popolo non era d'accordo con il partito, la conseguenza è che bisognerà cambiare il popolo allora. La Stasi aveva l'effetto, aveva il compito di cambiare il popolo. Entriamo allora nel secondo capitolo della nostra storia, 1961, la costruzione del muro di Berlino e da quel momento si può considerare che il potere della Stasi cresce fino a diventare quasi un potere assoluto. 1961. Per fermare l'esodo dalla Germania Est, nella notte tra il 12 e il 13 agosto inizia la costruzione di un muro attorno al settore occidentale. La Stasi è incaricata di organizzare la sorveglianza e la logistica che ruotano intorno alla gestione della nuova struttura. Non ci sono vincoli al suo potere d'azione. Chiunque tenti di passare il muro illegalmente può anche essere ucciso. 1964. In Unione Sovietica, Leonid Briesnev subentra a Nikita Khrushchev e inizia una politica di ristalinizzazione del paese dopo le aperture del suo predecessore. Mosca fa molto affidamento sul suo alleato tedesco e il regime comunista di Berlino risponde sempre presente. Anche la Stasi, ancora con Milche al comando, viene ulteriormente potenziata. Ma all'orizzonte si profila un nuovo cambiamento. L'arrivo di Willy Brandt come cancelliere della Repubblica federale tedesca. Brandt dà il via ad una nuova stagione nei rapporti tra le due Germanie. Inaugura una politica di apertura che passerà alla storia con il nome di HostPolitik. Grazie anche al suo impegno, la DDR fa il suo ingresso nelle Nazioni Unite e ottiene quel riconoscimento internazionale che fino ad allora le mancava. Willy Brandt però non avrà molto tempo per portare avanti la sua linea politica. Nel maggio del 1974, infatti, è costretto a dimettersi a causa di uno scandalo in cui è coinvolta anche la Stasi. Emerge, infatti, che uno dei più fidati collaboratori di Brandt, Günther Guillaume, è in realtà un agente della Stasi. L'operazione è stata portata avanti dal capo della sezione esteri della Stasi, Marcus Wolf, conosciuto per anni come l'uomo senza volto. Il messaggio è chiaro. La Stasi può arrivare ovunque. Ed eccoci, professore, al caso Guillaume. Questo è veramente un caso clamoroso. Un colpo da messo. Il cancelliere della Repubblica Federale Telesca, socialdemocratico, quello che fa la politica, la politica di apertura ai paesi comunisti, si trova ad avere come principale cancelliere, un alter ego, diciamo quasi un alter ego, una spia della Stasi. Ma come era possibile? Vuol dire che erano superiori? Vuol dire che erano bravi. Superiore a chi? Superiori a quelli della Germania occidentale che non se ne erano accorti. Sì, sicuramente sì, non se ne erano accorti. È uno dei casi più clamorosi questi della Guerra Fredda. Porta alle dimissioni di Brandt. Non era tanto facile accorgersene forse. Nel senso che c'era stata un'infiltrazione di numerosissimi agenti che grazie al fatto che fino al 62 le frontiere tra Germania occidentale attraverso Berlino erano transitabili facilmente, moltissimi cittadini della Germania orientale si erano trasferiti nella Germania occidentale. La Stasi ebbe l'idea di far passare nella Germania occidentale moltissimi cittadini della Germania orientale che però erano delle sue spie, assegnando il compito di vivere, organizzare la propria vita lì e poi a un certo punto mettersi in collegamento. Erano degli agenti in sonno che dovevano cercare di farsi spazio nella società tedesca occidentale per poi essere utilizzati magari 10-20 anni dopo. Guillaume fece appunto esattamente questo. Professore, una domanda. Secondo lei ci può essere lo zampino della Stasi anche nella scoperta del caso Guillaume di provocare questo terremoto. Lei è di obbligo. Non ci avrei mai pensato. Non so se qualcuno ci ha pensato. Per far vedere la loro potenza. È una cosa all'arricarré, dei doppi e tripli giochi che si intrecciano. Ma potrebbe anche essere, non lo so, però quale sarebbe stato? Di provocare la caduta di Willy Brandt? Far arrivare al potere uno di destra? Beh, ma a quel punto... Cioè di rovinare i socialdemocratici? No, a quel punto la politica, la ospolideica si era dispiegata al massimo. E invece di consacrare Willy Brandt come l'eroe, il riunificatore potenziale della Germania... Il riunificatore non dipendeva da Willy Brandt. No, 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 ma adesso non parliamo del corso della unificazione. Insomma, dare un colpo a un'immagine della Germania occidentale comunque vincente. Va bene, comunque lei lo esclude. Michele Pagliero? Sì. Direi che non è tra le cose più probabili. Beh, la Stasi era un apparato di sicurezza formidabile. Aveva creato una situazione orwelliana nel paese. Parliamo di più di centomila dipendenti. Un apparato di sicurezza più grande di quello nazista. Nell'arco della storia della Dedev i numeri sono enormi. Si parla di circa 6 milioni di dossier aperti sui cittadini, uno o due milioni di informatori, delatori, che lavoravano con la Stasi. Delle cifre veramente impressionanti. Certo, è spaventoso rispetto al lavoro. Più di quello della Germania nazista, per dire. Basta questo per... Sì, ma soprattutto quello di cui noi non abbiamo idea è il fatto, come poi si è scoperto, ci sono state persone che hanno vissuto vent'anni, trent'anni, pensando di avere accanto a sé la propria moglie, il proprio marito, un congiunto strettissimo, al quale poter confidare tranquillamente i propri pensieri. Invece questo era un informatore che regolarmente teneva informato della Stasi. La più grande specialista mondiale di questo tema specifico è Francesca Fanelli. Marcus Wolf, che era il capo del settore estero della Stasi, inaugurò infatti uno speciale dipartimento chiamato, appunto, le Spie Romeo, per tutte quelle cittadine, oltre che i cittadini, che dovevano essere spiati, in particolar modo tutte quelle donne che erano a contatto con i potenti. Quindi anche su questo... Marcus Wolf è stato, diciamo sì... Un gigante. Sì, un grande esperto, sì, un gigante, era molto ammirato da Cossiga, che era un esperto di spianaggio. Ma tra l'altro, appunto, era anche l'architetto dell'affare di cui abbiamo parlato. Era sì, l'architetto dello spianaggio verso l'estero. E infatti non credo che gli sia stato attribuito nessun delitto particolare, nessuna uccisione. Beh, dei processi, poi ne parleremo. L'ha avuto un processo, però non so com'è finito. No, dei processi con danne, poi furono riviste, ma ne parleremo alla fine. Comunque lui inventò questi Spie Romeo, di cui parlava la dottoressa Fanelli, che, diciamo sì... Erano uomini affascinanti. Anche se è una cosa antica, perché Matà una volta era fatta al contrario. Erano donne, erano spie Giulietta. Invece le donne che seducevano dei maschi, erano dei maschi che seducevano delle donne per arrivare a degli altri maschi. È molto piastuto. La tecnica di Wolf e di Romeo nel mondo arabo, tutto lo spionaggio arabo, è stato fatto in funzione di maschio che seduce una donna. La tamburina di Le Carré, parliamo sempre di romanzi, perché ci aiuta. Le Carré era un agente segreto, quindi conosceva queste tecniche. Che le donne potessero essere dei tramiti di informazione per servizi di spionaggio. Era una cosa che, diciamo sì, era stata presa in altre occasioni in considerazione. È noto, per esempio, che un gran numero di, un numero discreto di ufficiali della Marina Italiana, la Marina Militare, avevano delle mogli inglesi o americane. Quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, la cosa, diciamo così, fu presa in considerazione dai servizi segreti italiani. Molto interessante. Anche se erano diventate tutte le cittadini italiane, naturalmente. Adesso le faccio vedere un nuovo filmato. Nel 1974 la Germania Est e la Germania Ovest si sfidano su un campo di calcio. E l'occhio lungo della Stasi arriverà fino a lì. 1974. Durante i mondiali di calcio che si disputano in Germania Ovest, si affrontano le due nazionali tedesche. La Stasi è incaricata di controllare sia i calciatori che il pubblico proveniente dall'est. La Germania Ovest schiera tra le sue fila campioni come Beckenbauer e Gerd Müller. La Germania Est, calciatori per lo più sconosciuti. Ma l'esito della partita sarà imprevedibile. Sparmaster, 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 tiro e gol. 1-0 per la Germania. Caspita, professore, ma la Stasi controllava anche il mondo dello sport, gli spettatori, i calciatori, tutto, tutto. Sì, era uno Stato nello Stato, anzi forse era lo Stato vero, l'altro era una specie di Stato finto. E continuato, lo sport della Germania orientale è stata la protagonista, attraverso la motivazione della Stasi, del più grande avvelenamento di atleti della storia mondiale. Sì, perché è noto che somministrava a questi atleti, per farli vincere, ricordo che la Germania orientale con una popolazione di intorno a 10-12 milioni di persone, alle Olimpiadi arrivava quarta o quinta nel medagliere, cioè una serie di vittorie spaventose, realizzate attraverso la somministrazione di anabolizzanti, droghe di ogni tipo, che hanno rovinato in particolare dopo la fine della Germania orientale, si è scoperto, hanno rovinato la vita a decine e decine, soprattutto di atlete donne, che hanno avuto appunto mestruazioni interrotte, impossibilità di avere bambini, insomma, le ha lasciate completamente... Mi viene in mente, non si può dire, forse, forse, che la vera competizione della Stasi e della Germania orientale era con l'Unione Sovietica? Loro miravano, essendo tedeschi, come lei ha ricordato all'inizio della posizione, miravano a diventare nel tempo, non dico più importanti dell'Unione Sovietica, ma di pari importanza dell'Unione Sovietica, essere un altro centro del potere comunista nella guerra fredda. Ma, sa, è nota la battuta che fece Stalin quando si trattò di fondare la Germania orientale, può darsi che i tedeschi riescono a far funzionare pure il socialismo. Sicuramente un'ambizione del genere penso che ci fosse, di essere i primi della classe, se non altro, e quindi di emulare anche il maestro, appunto, cioè l'Unione Sovietica. E allora vediamo... Gli stati serviva anche a questo, sì. Riuscirono a esserlo, ma entriamo qui nel terzo capitolo, che non a caso il crollo del muro di Berlino, l'episodio che segna la fine del comunismo in terra 1989 avviene dove? A Berlino, appunto, a Germania, segna anche la fine della Stasi. 1985, il nuovo segretario del Partito Comunista Sovietico è Mikhail Gorbachev. È l'inizio di un'epoca diversa. Lentamente il blocco comunista si sgretola. Nella Germania Est sono in molti quelli che fuggono all'Ovest approfittando delle aperture che la nuova linea di Gorbachev ha portato anche nel granitico Partito Comunista tedesco. Nell'ottobre del 1989, una grande manifestazione di massa all'Ipsia chiede un cambiamento ed elezioni libere. La Stasi osserva questi grandi stravolgimenti impotente. Per gli ortodossi dirigenti del Ministero per la Protezione dello Stato, Gorbachev è un traditore della causa comunista e il suo programma di riforme, la pietra tombale sull'esperimento storico del socialismo reale. Milke si dimette a sorpresa il 31 ottobre. 4 novembre 1989. Si tiene a Berlino Est la manifestazione autonoma e autorizzata più imponente nella storia della DDR. Ad Alexanderplatz oltre mezzo milione di persone si ritrovano per dire no alla violenza e in favore dei diritti costituzionali. E' il preludio a quello che succederà il 9 novembre, quando il muro viene abbattuto ed inizia una nuova era per il popolo tedesco. inizia un'attività inizia un'attività inizia un'attività La stasi, nei giorni della caduta del muro, tenta di distruggere tutti i documenti raccolti nel corso degli anni, ma gli archivi sono sconfinati e molti documenti si salvano. Il lavoro di catalogazione di queste carte recuperate è ancora in corso d'opera. Oggi, il Palazzo della Stasi è diventato un museo e un archivio consultabile da tutti. Dieci milioni di dossier, una cifra abnorme, incredibile. Una delle cose che mi hanno sempre stupito è una scarsità di processi. Albertano? Se mi è permesso una precisazione, i processi vi saranno, non saranno applicate poi le condanne. In qualche modo, per età, saranno riviste, poiché dirigenti malati. Ciò che però è, da un certo punto di vista, preoccupante, notare come molti dei dirigenti godano di comode pensioni, di asset economici, prima appartenuti alla stasi stessa. Cioè, come se la Germania riconoscesse il diritto, un nemico, quelli dovevano fare quel lavoro e il riconoscimento è a normali poliziotti. Così la Germania occidentale. Francesca Fanelli, aspetti, professore, ma quanti informatori furono scoperti? Allora, nella sua azione di controllo, la Stasi, oltre agli impiegati ufficiali, si serviva anche dei cosiddetti collaboratori informali. e nel 1989 il commissariato federale per gli archivi della Stasi stimò circa 189 mila collaboratori informali. Ma secondo lei, professore, non sono venuti fuori troppi pochi casi dopo la caduta del muro di Berlino rispetto alle cifre che abbiamo sentito fare, che sono poi cifre ufficiali. 10 milioni di dossier e nessun caso celebre. Di fatto il vero caso celebre, come lei ha detto in tutta la puntata, è stato il caso Guillaume quando ancora le Germani erano divise. Poi cade il muro di Berlino e non c'è un caso paradigmatico. Adesso non so queste questioni che hanno anche un aspetto giuridico, perché quando gli eventuali delitti sono stati commessi, sono stati commessi in una situazione statale giuridica in cui quelle attività non erano crimini, ma anzi erano delle attività pienamente legittime. Quindi processarli dopo sarebbe stato fare una specie di Norimberga. Il Norimberga però che non aveva dietro di sé la sconfitta militare, la debellazio totale, ma anzi una specie di volontario accesso. Poi noi non sappiamo molte cose, cioè non sappiamo se ci siano stati degli accordi informali, segreti, nel momento della riunificazione sulle clausole, come dire, vere in alcuni campi della stessa riunificazione. Ne sappiamo qual è stata l'attività, che io credo massiccia, dei servizi segreti occidentali, in particolare di quelli americani. I servizi segreti americani fotocopiarono tutto quello che si stava nei ministeri della DDR. Forse il mito della Stasi era talmente forte che era meglio conoscere, conoscere i segreti, capire le tecniche, piuttosto che creare una miriade di scandali l'uno dietro l'altro. I processi a dei personaggi che ormai non contavano più nulla, che certo avevano probabilmente dei crimini sulla coscienza, perché la polizia della DDR sparava, uccideva delle persone su quel muro, le uccideva anche nelle carceri, nelle segrete, torturava. Però sono, diciamo così, la storia... Attenzione, perché, lo dico ai nostri ascoltatori, queste spiegazioni, il professore Ernesto Gallaglia, ci raccontano anche del perché, la domanda che spesso ci viene fatta, non c'è stata una Norimberga alla caduta del comunismo. I vincitori della Guerra Fredda ritennero più conveniente conoscere, fotocopiare, come lei ha detto, approfondire, magari riusare quegli informatori e quei metodi e lasciar correre delitti. Come è accaduto anche in Italia. E' accaduto anche in Italia. Il capo dell'Ovra, come è noto, Guidoleto, non subì mai un processo, era il capo della polizia politica che aveva perseguitato per anni gli antifascisti. Lei sa meglio di me che non subì un processo, probabilmente anche perché aveva dei dossier su Pietro Nenni, sui suoi rapporti. personaggi del Partito Comunista, del Partito Socialista. E tant'è vero che tutti i dirigenti politici andarono a trovare Pietro Nenni, dopo di che lui... Per avere così un colloquio riservato con lui. Wolf, che era stato di gran lunga il più intelligente, il più abile dei grandi capi della Stasi, tre anni prima della fine della Stasi e del DR si era dimesso e si era messo in pensione. Probabilmente, credo che sapesse molte cose che sono state poi utili. Io ringrazio il professore Ernesto Galilealloggio, lo saluto, ma non prima di avergli chiesto almeno uno o due libri per approfondire questo tema. Ma uno dei libri è il libro di Timothy Garton Asche, Il dossier. Asche era un giovane studente che si legò a Berlino e imparava il tedesco negli anni Sessanta, fece amicizia, casa dello studente, messo universitaria, così. Poi quando è caduto il muro ha scoperto che su di lui esisteva un gigantesco dossier composto da chi? Dalle ragazze con cui lui aveva amoreggiato, da quello che l'aveva accolto nella casa dello studente, erano tutti quanti delle spie e lui racconta appunto questa esperienza. E poi raccomandiamo ai nostri spettatori di vedere i film di cui abbiamo parlato, da Funerale a Berlino a Le vite degli altri e adesso la posso ringraziare davvero il professor Galli della loggia e grazie a Saverio Albertano, a Francesca Fanelli, Michele Pagliero e passo alle conclusioni. Ernesto Galli della loggia ha parlato più volte di Marcus Wolf, il più importante agente della Stasi per tutto il corso del dopoguerra, forse anche qualcosa di più. lo chiamavano l'uomo senza volto perché di lui per molti anni non esisteva neanche una fotografia. Il suo nome in codice era Mischa, era figlio di comunisti e da giovane ha passato gli anni della crescita, quello in cui diventò adulto, all'hotel Lux, il famoso hotel di Mosca dove si raggruppavano, dove vivevano i profughi dall'Europa durante gli anni del fascismo e del nazismo. Poi nel dopoguerra era stato un genitore un geniale agente, quello a cui si sarebbe ispirato John Le Carré per i suoi romanzi e il personaggio di Carla, il nemico dell'agente Smiley. Bene, Marcus Wolf fu molto temuto, molto odiato ma anche molto ammirato e dopo la caduta del muro di Berlino continuò a essere, a scrivere, a raccontare la sua storia, a essere omaggiato, tant'è che e quando nel 2006 morì ai suoi funerali c'era una gran quantità di gente e per la tomba se ne scelse una a fianco di Rosa Luxemburg. 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 a?... Grazie a tutti.